Come si può aiutare la crescita? Con le aziende, lo facciamo acquisendo start-ups, più di 200 start-ups e lo facciamo chiaramente con la cultura delle nostre persone, della nostra organizzazione. Le persone sono al centro di questa straordinaria trasformazione, come unire l'innovazione e le persone penso che questa è la grande sfida delle aziende che vogliono essere competitive. Chi riesce a fare questo, a coniugare le persone, l'energia e l'innovazione, noi pensiamo che avrà la possibilità di costruire nuovi modelli di business. Cisco ha questa ambizione sviluppando delle piattaforme che devono essere sicure e intelligenti per favorire lo sviluppo del digitale in Italia.